In questo video andremo a vedere come scrivere su due colonne, due o più colonne in un documento di Word Abbiamo due metodi per farlo Il primo è quello delle colonne consecutive Cioè nel senso che io vado a scrivere nella prima colonna Quando finisco, quando arrivo a fine pagina Automaticamente il testo mi passa alla seconda colonna L'altro metodo invece è quello di avere due colonne indipendenti Quindi posso scrivere tranquillamente alcune cose sulla colonna di sinistra e altre su quella di destra Quindi non sarà consecutivo, quindi il testo della seconda colonna non sarà il seguito di quella della prima Andiamo a vedere prima il primo metodo, quindi come scrivere su due colonne consecutive Per farlo generalmente abbiamo come prima scheda selezionata home Selezioniamo layout Clicchiamo su colonne e scegliamo quante colonne vogliamo Quindi clicchiamo ad esempio su due E ci divide automaticamente il testo in due colonne In questo caso, quando finiamo la prima colonna, va automaticamente a scrivere nella seconda Quindi il testo della seconda colonna è il seguito di quello della prima colonna Quindi abbiamo tutta la prima colonna e poi passa nella seconda quando arriva a fine colonna Possiamo ovviamente andarci a regolare le colonne da qui Quindi possiamo andare a dare lo spazio alle colonne E questo è il primo metodo Quindi tramite questo metodo possiamo dividerci la pagina in una o più colonne consecutive Quindi con il testo che segue quello della colonna precedente Per invece avere due colonne separate Quindi avere due colonne indipendenti tra di loro e poter scrivere quello che voglio in una o nell'altra colonna Dovrò usare una tabella Per farlo, quindi vado su inserisci, tabella E inserisco una tabella di tipo 2x1 Quindi con due colonne appunto e una sola riga Clicco sul riquadro in alto a sinistra della colonna Per selezionarmela tutta Quindi in questo caso mi vado ad attivare progettazione e layout Da progettazione vado su stili bordo E vado a rimuovere il bordo Quindi clicco su nessun bordo Mi ha selezionato solo un lato Ok posso anche cliccare su bordi qui E clicco direttamente su nessun bordo Così li disattiviamo completamente A questo punto abbiamo una tabella con due colonne invisibili Quindi non vedo la separazione delle due colonne Se la seleziono però posso vedere il punto in cui si separa E lo vedo anche qui Quindi mi seleziona e posso ovviamente andarmelo a regolare A questo punto posso copiare un testo E andarmelo ad incollare nella parte sinistra della colonna Posso copiarne un altro E andarmelo ad incollare in quella destra Ovviamente se volessi potrei temporaneamente lasciare Intanto riattiviamo qui Posso temporaneamente lasciare tutti i bordi Quindi mentre ci lavoro In questo modo vedo più facilmente quali sono i bordi della mia colonna Poi a fine lavoro Quindi quando ho inserito tutto il testo Riclicco su bordi Imposto su nessun bordo In questo modo avrò due colonne indipendenti tra loro Quindi io posso tranquillamente andare a scrivere tutto nella seconda colonna E lasciare Eliminiamo un paragrafo perché è andato alla pagina successiva Ok Posso tranquillamente andare a inserire tutto nella seconda colonna E quindi lasciare la prima vuota In questo modo avrò due colonne indipendenti tra loro E potrò scrivere quello che voglio nella prima e quello che voglio nella seconda Come detto quindi Il primo metodo è Layout Colonne Due colonne Ovviamente in questo caso la formattazione è completamente sballata Perché lo sto facendo su una tabella Se lo facciamo all'esterno abbiamo due colonne Quindi per dividere le colonne e averle consecutive Layout Colonne E scegliamo quante colonne Volendo possiamo cliccare su altre colonne E scegliere noi il numero delle colonne Per avere invece due colonne indipendenti tra di loro Quindi poter andare a scrivere il contenuto indipendentemente dall'una e dall'altra Andiamo su inserisci tabella Due per uno Quindi due colonne Non so perché me la sta inserendo sopra Tabella Due per uno Quindi due colonne e una riga Altrimenti possiamo cliccare anche su inserisci tabella E da qui selezioniamo due colonne e una riga Clicchiamo su ok E ci crea la tabella La selezioniamo Da progettazione Bordi Nessun bordo In questo modo andiamo a togliere i bordi alla nostra tabella Continuo a dire colonna Ma rimangono due colonne Quindi possiamo passare dall'una all'altra Volendo possiamo passare da una colonna all'altra Ve lo faccio vedere riattivando temporaneamente i bordi Ovviamente non ho selezionato tutta la tabella Ok Possiamo passare da una colonna all'altra Anche cliccando il tasto tab sulla tastiera In questo modo ci passa dalla prima alla seconda colonna Continuando a premerlo ci crea altre righe Ma ovviamente non ci serve Quindi torniamo indietro Funziona ovviamente solo dalla prima alla seconda Se sono già sulla seconda Se clicco mi crea una nuova riga Per tornare alla prima dovrò premere la freccia indietro sulla tastiera Quindi questi sono i due metodi per lavorare con le colonne su Word Quindi per poter creare o due colonne consecutive o due colonne indipendenti Spero che questo video vi sia stato utile Vi ringrazio per averlo seguito E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video